Stella organizzerà una sfilata di moda senza ottenere il successo sperato mentre cerca nuove idee per nuovi vestiti viene trasformata in una bambina di tre anni da un oggetto cambia età nei fondali di zenith e le wings alla ricerca della gemma dell'intesa affrontano i mutanti in uno scontro all'ultimo sangue